Uno dei progetti che continuano a procedere nonostante l'impasse del coronavirus è il distretto del cibo, tematica illustrata nei giorni scorsi dall'assessore regionale Morroni, per il quale la regione si sta muovendo con scadenze già fissate a metà aprile e anche su questo versante l'idea di confagricoltura porta a distretti enogastronomici e agroalimentari delle aree montane. La nostra idea sarebbe quella di catalizzare e fare un distretto, perché lo riteniamo una cosa assolutamente importante, un distretto dell'Appennino. La parte alta dell'Appennino-Umbro potrebbe essere un settore, quindi andare un po' a focalizzarci sul GAL, diciamo così, dei Sibillin e il GAL dell'Alta Umbria, perché quello su cui stiamo spingendo e che spingeremo quando ci sarà la possibilità da questo punto di vista è quella appunto di ricreare un sistema e la possibilità per cui arrivino soldi freschi nella nostra regione è l'idea di sviluppare il turismo, sviluppare da un punto di vista tecnico tutte le reti anche di trekking con cavallo a piedi o quello che sia, creare anche un coordinamento di tutte le risorse che arrivano, perché arrivano molte risorse magari al comune, al GAL, all'ex comunità montana, la stessa gestione del territorio, magari affidarla ai agricoltori che hanno la possibilità appunto di essere organizzati da questo punto di vista, quindi ricreare un sistema e la possibilità di avere anche sia da un punto di vista tecnico, questo stiamo lavorando con il club alpino italiano, ma anche dal punto di vista appunto della coglienza, della vendita di prodotti, dell'avere una fruizione del territorio assoluta, quindi anche questo diventa sicuramente un problema e va risolto e lo stessore sta risolvendo quello dei cinghiali, quindi dare sicuramente un aspetto nuovo al nostro appennino che in questo momento potrebbe essere un problema da tanti punti di vista per lo spopolamento e il dissesto idrogeologico, dall'altro può diventare invece un'assoluta risorsa perché penso che dei percorsi assolutamente belli anche con tutta una serie di monumenti storici sulle nostre montagne, sulle nostre colline eccetera, è difficile trovarli in altri posti. Ma la domanda delle domande resta una, come si ripartirà e soprattutto l'agricoltura rispetto ad altri settori avrà minori o maggiori energie per riprendersi? Su questo noi siamo già abbastanza in trincea, insomma, per cui probabilmente l'idea di poter ripartire l'idea di, diciamo così, ripartire con forza e con corsa, secondo me, è nella nostra indone, nella nostra capacità. Questo modello appunto di valorizzare le nostre produzioni, magari fare trasformazione e creare valore aggiunto è l'obiettivo e sicuramente in questo momento siamo tutti abbastanza, diciamo così, fermi. L'agricoltura non si può fermare, per fortuna poi c'è questa positività di essere all'aria aperta molto spesso, insomma, salvo chi trasforma, chi è in fabbrica eccetera, quindi aiuta sicuramente anche questo a non fermarsi e sicuramente bisogna ripartire con più slancio di prima. L'agricoltura L'agricoltura